vai buonasera a tutti benvenuti al nuovo video e oggi praticamente mi è arrivato un pacco spettacolare guardate la ditta degusta box e ora andremo ad aprirlo sto più nella pelle cartolina gli auguri tutto il team di questa box chi avrà una festa è un felice anno poi qui c'è una ricetta fish cake al limone buono poi gli auguri no, è pubblicità poi guardate che ora arrivo che spettacolo aspetta ecco, vai c'è una storia d'amore sacchettino di linde patatine due pacchi patatine kettle chips no, no della gioia del mio amore è una confezione di spaghetti grandi e ti trafilate eccolo poi abbiamo luna di miele miele di fiori brodo cuore di brodo di manzo questo lo mangerò mai però vabbè vabbè cuore di brodo poi poi ma qui c'è da spammare il reggimento capris pappadopus delizia cioccolato che spetta no cos'è una bottiglia di succo di frutta unico proprio scritto unico dal piemonte l'urisia che è uva mela pesca bellissimo no è così no di limone 100% zucco di limone ma no questo lo sbarbi spettacolare 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 vado là scelto da simone ruggiati spettacolare questo fa come poi un'altra confezione di patatine che spettacolare no 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 è il sangrispito no guarda ogni riferimento a persone puramente casuola due uno bianco eh no vai vai no no madonna il caffè il caffè il caffè mucinato no alla faccia grazie spettacolare caffè musetti box 100% arabica no 8 panini al latte no che spettacolare un lievito madro un'altra roba ragazzi che lavori buoni stessi verso facile da aprire e facile ma non ultimo salame odio 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 no vestiti per il mio passato da ex vegano bevanda riso e soia odio odio mamma mia e qui veramente l'avventura la nostra avventura questa box bellissima un po' allata anche per il testamento facciamo vedere insomma prime impressioni un po' la tedellino tutta sicurata versione natalizia spettacolare sicuramente se ne le pagate sicuramente solo 10 euro questo quindi quindi 10 euro soli poi al prossimo dice saranno 16 euro ma sicuramente con tutta questa roba guardate io che aspetta ma che scherzo allora un saluto a tutti grazie da Ilaria e KDG alla prossima ciao ragazzi